Nove persone rinviate a giudizio dal gruppo del Tribunale dell'Aquila Domenico Canosa nell'ambito dell'inchiesta Caligola che coinvolse la società Ecosfera e la regione Abruzzo su presunte assunzioni clientelari in cambio di appalti pilotati. Le indagini della squadra mobile di Pescara causarono un vero e proprio terremoto in seno all'ente regionale con sette misure cautelari nel gennaio del 2012. Il processo ci sarà nel maggio prossimo. In dibattimento andranno Duilio Gruttadauri, allora presidente del Consiglio di Amministrazione e socio di Ecosfera, la moglie Anna Maria Teodoro, ex socio di Ecosfera, Lamberto Quarta, ex consulente della società ed ex capo della segreteria dell'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, Giovanna Andreola, ex dirigente del Servizio Attività Internazionali della Regione, il marito Michele Galdi, ex consulente di due società che secondo i PM sono riconducibili ad Ecosfera, Corrado Troiano, socio della società Cyborg, Mario Gai, ex vicepresidente dell'Osservatorio Interregionale Cooperazione e Sviluppo, Camillo Cesarone, ex capogruppo del PD in Consiglio regionale e Domenico Peca, ritenuto dai giudici, presta nome per alcune attività di Ecosfera stessa. È stato prosciolto invece dalle accuse Bernardo Notarangelo, già presidente della commissione di gara relativa all'appalto contestato dalle indagini.